Buongiorno, riparto dalla sezione Open Toscana per far vedere il percorso iniziale, ma queste sezioni dei siti sono ovviamente tutte interconnesse. Il secondo pulsante di cui cominciamo a trattare è esattamente quello dei dati. Open Data è un termine presente già da molto tempo, si parla in vari scenari di contenuti, amministrazioni che hanno pubblicato dati, che possono essere utili. Ovviamente il concetto di base è che questi dati siano open, open nel senso che sono disponibili, sono tracciabili, non devo andare su un sito web delle pagine a cercare qualcosa, ma trovo dati, dati elaborabili da applicazioni, da contenuti, quindi una prima relazione fra chi li produce e chi li usa. Open Data ovviamente non è solo una tabella di dati, è importante che questi siano effettivamente fruibili, che siano usati e soprattutto che ci sia dietro un processo che ne garantisce la qualità all'aggiornamento. Questo è quello che abbiamo fatto fino ad oggi, abbiamo pubblicato sul portale Open Data più di un centinaio di dataset, sono in questo momento circa 160, che spazzano su vari contenuti di varie usabilità. Si va dall'elenco delle farmacie alla cartografia della regione toscana. È ovvio che questa evoluzione è un primo passo, nato in tempi anche più lontani, già con le pubblicazioni statistiche, ma è una parte unidirezionale, è l'amministrazione che butta fuori quello che ha, che può fare, quello che ritiene più utile. Gli scenari sono vari. Dietro a questo, ovviamente, in questa unidirezionalità non c'è un'effettiva idea di collaborazione, che è quella invece che è nata con questo progetto. Non più di una decina di giorni fa, raccontando un po' questa idea, parlandone, un giornalista sportivo ci ha detto, dice, ma io ho tutti i dati del torneo di Viareggio, non è che li posso rendere come Open Data, magari a qualcuno servono. Questo è un primo passo di effettiva apertura della piattaforma. Non è la regione o il gruppo dei comuni che decidono di partecipare, che buttano fuori un dato amministrativo perché gli piace. E anche un cittadino che ha prodotto qualcosa, è un dato di qualità, soprattutto lo sente suo perché lo aggiorna regolarmente, e questa è un'informazione che può essere resa disponibile. Quindi questo concetto di apertura parte anche dal fatto che la piattaforma è aperta a contenuti di altri. Dietro a questo, ovviamente, ci sono altre modalità di apertura. Come vi dicevo prima, il vincolo più grosso è che un'amministrazione decide di pubblicare un dataset. Non è detto che questo sia particolarmente fruibile. Quindi in questo contesto è nata la seconda sezione della piattaforma, quella che porta in qualche modo a dire sviluppa la tua idea con noi. Se vuoi sviluppare la tua idea e decidi da dove si parte, ma semplicemente da una piccola descrizione. Perché? Perché chi ha un'idea sa di aver bisogno di qualche contenuto, ma magari non sa che cosa c'è in regione. Se noi pubblicassimo la lista di quello che abbiamo, forse non ci troveremo. Là si parte da una strutturazione che non è nemmeno di una telefonata, un punto di contatto dove dietro c'è qualcuno, può vedere questa richiesta, può cercare di contattarla e si può aprire una discussione uno a uno. Quindi diventa una richiesta di un contenuto, ti dico che cosa ho in casa, cosa possiamo fare. Non ce l'ha la regione, ce l'ha un comune, possiamo parlarne, possiamo dire. Questo modo di collaborare estende dall'unidirezionalità a una bidirezionalità. bidirezionalità che però è un uno a uno in senso stretto. Ho un'idea, te la chiedo, parliamone. Per andare sempre su un'apertura ancora più forte, quindi quello che poi vedrete anche in altre tematiche, dietro questo concetto ne abbiamo costruito un altro, quello di una stanza in cui condividiamo i contenuti. Una stanza che cos'è? Uno spazio, uno spazio in cui si possano raccontare le proprie esperienze in questo contesto, positive speriamo, ma anche negative per imparare dagli errori, ma soprattutto dove si possano costruire dei template, dei modelli di utilizzo dei dati di interazione. Quindi il dato in quanto tale, il suo processo è un punto importante nella costituzione degli open data, ma è altrettanto importante che sia conosciuto, condiviso e effettivamente usabile. E serva un'esigenza. Contiamo molto, ci speriamo, forse magari puntando un po' troppo in alto, che alcuni di questi contenuti possano diventare un piccolo motore di innovazione, anche legato alle app che ci sono successivamente. È difficile per una startup creare anche un'idea, portarla avanti, dovendo gestire dei dati che possano essere interessanti, perché la produzione dei dati può costare. Se una parte di questo viene regolarmente aggiornata da un soggetto come la regione, un comune o un privato che decide di renderlo disponibile, in questo si fa un'evoluzione. È ovvio che su questo aspetto è necessario ragionare, quindi questo spazio di condivisione è quello in cui contiamo ci sia un'attività non solo della richiesta del dato mai prima, ma anche semplicemente della raccontarci e costruire un universo insieme, una partecipazione che inizia dallo scambio di contenuti informativi. Quindi open data sta diventando più o meno questo. Su questo aspetto è ovvio che non servono login per accedere a contenuti, sono dati aperti, ma niente esclude che questi open data diventino, e alcuni di questi lo sono già in minima parte, addirittura degli open services. Gli open services sono quelli in cui non ho da scaricare ad esempio l'intero contenuto delle strutture ricettive della Toscana, ma posso avere un servizio più utile anche per un'app che mi dice che cosa c'è qui vicino ad un certo raggio. Queste informazioni possono essere fatte su entrambi i lati, gli open services possono andare in questo modo, fino a fornire contenuti personali. Dietro a questo è ovvio che se il motore dell'idea è l'ente pubblico si fa uno spaccato, l'idea di partecipare invece, quindi aprire questo spazio, questa stanza di condivisione, è quello in cui possiate aiutarci a crescere insieme e quindi costruire un universo che ci permette di essere non solo bidirezionale, ma anche come ambiente di condivisione dei contenuti. Grazie. 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 Grazie.